È un movente molto labile ma anche che preoccupa perché evidentemente la vita vale proprio molto molto poco. Se il movente è questo, se non c'erano pregressi, situazioni di credito e debito che non si possono nemmeno escludere, poi il fatto in sé è molto molto modesto. Vi ho detto prima che ho ritenuto che sussistesse proprio per questo anche un ulteriore aggravante dei motivi futili. I motivi futili rappresentano un aggravante previsto. Tra l'altro il pascuzzo era particolarmente attenzionato dalle forze dell'ordine perché era noto proprio nel piccolo comune di Buonabitacolo come persona dedita a traffici non solo l'arresto di novembre ma era attenzionato anche in seguito perché continuava, secondo le nostre attività di indagine, a vendere fumo, a vendere marijuana tra i ragazzi del posto. Insomma, quindi altri momenti non vi è assolutamente traccia di altri momenti.